Parliamo di sanità, parliamo soprattutto del project financing dell'ospedale di Chiedi perché ci sono delle novità. Sì, hanno sottratto 30 milioni per l'ospedale nuovo di Chiedi, un atto illegittimo perché hanno tolto risorse certe e hanno messo risorse assolutamente incerte. È un atto al rischio di illegittimità, qualcuno come l'assessore Febo presente alla giunta è scappato, ma soprattutto le motivazioni. Hanno, dopo dieci anni, per la prima volta prodotto un debito, 66 milioni, non coperto dalle risorse del bilancio della sanità della regione e quindi del fondo sanitario regionale. Pertanto per evitare l'aumento delle tasse hanno dovuto sottrarre a Chiedi i 30 milioni in questo modo così illegittimo. Secondo lei adesso cosa accadrà? Beh, intanto accade che Marsilio e il governo regionale sono smascherati, hanno dichiarato che i conti sono in ordine, invece loro stessi firmano una delibera nella quale dichiarano e firmano esattamente il contrario. In secondo luogo si presenteranno al Ministero garantendo delle risorse che invece sono subiudici e in terzo luogo mettono a rischio, chiaramente a Chiedi, la somma di 30 milioni di euro. Ultimo, hanno scritto nella delibera che l'Abruzzo, le imprese e i cittadini rischiano l'aumento delle tasse. È una vergogna. Nel momento in cui avviene tutto questo continuano però a fare sfornare delibere in cui aumentano lo stipendio dei direttori, dei dirigenti e dei manager. E fanno una norma che consente ad alcuni poteri forti, tra cui la sanità privata, di proporre transazioni per decine di milioni di euro. Questo è uno scandalo che noi non permetteremo mai facendo ricorso a tutti gli organi di garanzia.